Siamo con Lucas Raffaelli, Lucas 6-8, 6-7 il finale, è stata davvero dura così come si è visto? Sì, durissima, penso che un inizio di campionato veramente tosso, che ogni domenica o sabato, in questo caso, stiamo faticando tantissimo a vincere le partite e niente, dobbiamo lavorarci ancora di più per cercare di migliorare i meccanismi nostri. Il tuo doppio ruolo è quello di tenere e difendere sempre su uno dei migliori giocatori dell'avversario e realizzare anche tanti punti, come fai in questa doppia veste? Beh, non lo so, ce li ripartiamo, oggi mi ha toccato magari difendere su uno che faceva tanti punti, a volte li capita a Francesco, però dietro di me c'è sempre l'aiuto, c'è sempre la squadra, lavoriamo tanto in settimana con Domenico per cercare di tappare tutti i buchi, quindi penso che un lavoro che facciamo in settimana è un lavoro di tutti quanti. In attacco ci sono stati parecchi errori oggi e Coach Terulli tende a sottolineare proprio che in attacco si dà ancora molto molto indietro. Moltissimo, penso che stiamo facendo una fatica enorme a giocare in attacco, però l'unica soluzione è lavorare in settimana, cercare di passarci la bala, di essere altruissi e niente, poi arriverà il momento di ogni uno di noi, solo il momento della squadra che magari invece di faticare, stiamo facendo fatica a fare 65 punti, quindi penso che col lavoro miglioreremo tanto. E adesso in casa di questa capolista, che Benevento pare essere la squadra più in forma, quello si diceva anche nella scorsa giornata con la di Monteroni. Sì, sì, dobbiamo andare a Benevento, è sempre difficile giocare là, quindi sarà una partita dura, loro sono partiti benissimi, e niente, andiamo là, ce la giochiamo per cercare di rubarle noi, il primato.